Dov'è Ale? Dov'è Ale? Eccolo qua, eccolo qua Come stai quest'oggi? Molto bene, grazie Vado via Vengo anch'io Dov'è Antonio? Dov'è Antonio? Eccolo qua, eccolo qua E come stai quest'oggi? Molto bene, grazie Vado via Vengo anch'io Dov'è Superlode? Dov'è Superlode? Eccolo qua, eccolo qua Come stiamo oggi? Molto bene, grazie Vado io Io? Io I I I I È vero che se un bimbo da piccolo stenta a parlare Allora poi c'è qualcosa che non funziona? Rispondiamo subito Non è vero Non c'è nessuna relazione diretta tra precocità di linguaggio e intelligenza Può darsi che un bambino che ha incominciato a parlare precocemente Riveli poi, nella vita, un'intelligenza appena normale Come può darsi il contrario? Il bambino che fino a due anni e mezzo si è espresso a monosillabi Può diventare un illustre scienziato E persino un famoso oratore Di Di Na Bisibus Mi Na Di Mi Na Bisibus Giorno per giorno il bimbo impara parole nuove Aiutatelo in questa difficile conquista Le figure di un libro illustrato Colpiranno la sua attenzione Ed egli sarà stimolato a ripetere i nomi di ciò che vede Ma soprattutto Non dimenticate che la conquista della parola È legata allo sviluppo fisico e intellettuale del bambino Per questo Oltre che con gli osili specifici Che abbiamo indicato Aiutatelo con una razionale alimentazione Una perfetta igiene E quando è il caso Con cure appropriate Tu non conosci un'altra storia Dei lamellari di Cracovia Ora che il disco d'oro splende Sopra la mia testa pende Avrei bisogno di un notaio Che segni la mia volontà Desidero per me la bella compressa Barra caramella Lalla Lamellare di Comprovati origini Dottor Pradolato Dottor Pradolato Mi dica lei Cose che bisogna fare per vivere Carla Pradolato Se non lo sa lei Avrei forse bisogno di un vero dottore Chia 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 bulgara mi dice l'uomo seduto con me fa che sia bulgara mi dite l'uomo seduto chi è fa che sia bulgara l'uomo dal naso di un certo interesse bulgara bulgara la viola essende le compresse chissà cosa vorrà dire la lamellare che buffa la parola la la lamellare scusa se sono balbo la la lamellare prova con la quadratura lamellare lamellame lamellame lamellare lamellame lamellare oh 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 ok oh oh ora che il disco d'oro splende sopra la mia testa sante avrei bisogno di qualcosa per vivere un galenico emoliente da sospendere oralmente ma che faccia qualche cosa per vivere il vento soffia il vento soffia il vento soffia su soffia il vento soffia la solita sol fa che sia bulgara mi dice l'uomo seduto chi è fa che sia bulgara l'uomo seduto sul letto di me fa che sia bulgara l'uomo del caso da naso schiacciato bulgara bulgara uno così non l'ho incontrato chissà cosa vorrà dire la lamellare tu pensa alla parola la la lamellare non è tra i lemmi giari la la lamellare prova col salinari dottor salinari mi dica lei cosa fare per riempire il mio vuoto carlo salinari io li via lei se mi unge sarò per sempre devoto ora che il disco d'oro spende l'ultima moneta oriente avrei bisogno di notare un segno della volontà desidero per me la stella compressa-carabella PERRINASO 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 risolvi un altro caso PERRINASO PERRINASO a naso o a caso tu PERRINASO PERRINASO Risolvi questo caso PERRINASO PERRINASO Lasciali tutti con un palmo di te